dobbiamo puntare su qualcosa che si vende easy roba che spacca lo schermo sparo ho studiato attentamente i social possiamo scegliere tra migranti terremotati politici precariato giovanile tra l'altro questa polemica è super quota sì seguo il tuo viaggio però che peso cioè io resterei su argomenti che possono interessare di più giovani hai ragione però dobbiamo tenere in considerazione la cosa più importante ovvero il videoclip mettiamoci dentro una crew che se la balla un po se la suaga cioè alla fine senza video figo dove vuoi andare cosa vuoi fare che views vuoi fare hai ragione forse un'idea ce l'ho ciao tommy come stai è tanto che non ci si vede ehi ciao vale tutto ok senti devo chiederti un favore dimmi tutto tommy per te qualsiasi cosa oh ma tu che sei uno dei bboy più spaccosi di roma hai ancora lezioni di ballo ai ragazzi del quartiere sì sono proprio qui con una mia classe che ti serve sto preparando un pezzo nuovo un po borderline e vorrei che il video fosse una bomba assoluta perciò ho pensato è forse valerio ha qualcosa di nuovo da farmi vedere volentieri tommy ma di che tipo deve spaccare sì tipo una cosa non una cosa di tutti i giorni una roba forte intensa che lasci la gente a bocca aperta qualcosa di nuovo e di travolgente totalmente sì hai capito il punto ho proprio quello che fa per te ti mando un video dei miei ragazzi in diretta ti prego fammi volare valerio stai a vedere dai ragazzi segniamo e danziamo la parola amico fateli vedere cosa sappiamo fare questo non è quello che fai di solito che cos'è si chiama danzability è una tecnica che permette a persone abili e con disabilità di danzare insieme l'idea è che tutti quanti possono danzare trasformare i propri limiti in energia creativa da condividere con gli altri figo no interessante non ne avevo mai sentito parlare ma scusa è una cosa che possono fare tutti certo tommy anche tu però forse questo stile non si sposa molto con il pezzo di rinuncia che voglio fare io in questo momento capisci comunque fai i complimenti ai ragazzi dalla parte mia ci vediamo presto altre idee